Buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale YouTube per un nuovo aggiornamento dei mercati finanziari. Innanzitutto grazie perché mi stanno arrivando diversi mail, diversi messaggi di complimenti per il canale e questo mi fa davvero piacere. Ovviamente vi chiedo quindi anche di aiutarmi a far crescere il canale poiché questo canale non è monetizzato, quindi io non ci guadagno nulla ma lo faccio soltanto per passione personale e aiutatemi pure a far crescere il canale quindi condividete, mettete tanti like e tanti commenti insomma aiutiamo questo algoritmo di YouTube a farlo emergere un pochino. Detto questo, quindi iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati. Detto questo, partiamo subito con un po' di argomenti perché ci sono davvero tante cose da dire. Oggi è la giornata della BCE, oggi parlerà Christine Lagarde, dovrebbe dare qualche notizia interessante sul fronte della nuova politica monetaria europea da qui ai prossimi mesi, quindi questo sicuramente ci porterà un po' di movimento sui mercati. Poi c'è da dire che ieri i mercati sono stati abbastanza frizzanti, più che altro i mercati americani. Andiamo subito a vederli innanzitutto. Andiamo qui sul Nasdaq perché ovviamente il Nasdaq alla fine è il nostro indice di riferimento che ci dice un po' come sta andando anche la volatilità sui mercati. Volatilità di cui poi parleremo un attimino più tardi. Anzi, noi parleremo anche subito. Allora, qua c'era questa situazione abbastanza interessante sul Nasdaq che si era venuta a creare. Ve la faccio vedere, ve la faccio rivedere un attimino sul time frame a 4 ore. Perché? Andiamo qua a posizionare. Avevo disegnato questa freccia dove c'era questa tendenza, vedete, ad abbassarsi per il Nasdaq. Anche perché c'era stata una lunga divergenza qua con gli oscillatori. È abbastanza lunga, vedete che oltretutto non è ancora terminata del tutto. Però cosa ha fatto ieri il Nasdaq? Che ieri il Nasdaq ha rimbalzato. Ha rimbalzato esattamente della stessa quota del giorno precedente. Quindi ha annullato le perdite del giorno precedente recuperando un più 1,10, più 1,20%. Ed è molto interessante vedere come alla fine gli oscillatori adesso stiano tentando, vedete, di recuperare un po' dai massimi. Siamo arrivati non proprio ai minimi, ma comunque sì, ci stiano dando un'indicazione di possibile rimbalzo. Va valutata la situazione in maniera abbastanza day by day perché c'è molta incertezza sui mercati, quindi bisogna fare molta attenzione. Oltretutto la stagione degli earnings non sta dando proprio quelle spinte che per il momento ci si aspettano. Oltretutto la stagione degli earnings entrerà nel suo vivo proprio la prossima settimana con le big tech, quindi con le big five, quindi con Apple, con Facebook, con Google, Amazon, la stessa Tesla che dovrebbe rilasciare i risultati forse la settimana successiva. Insomma, quelli veramente daranno una certa spinta. Detto questo, comunque, allora, per il momento vediamo che il Nasdaq oggi il future rappresenta un più 0,13%, abbastanza piatto, piatto anche l'SP500 meno 0,09%. Dow Jones ieri ha chiuso più 0,93%, anche il Transportation più 0,98%, ieri il Russell 2000 ha fatto oltre più 2%, quindi ha raddoppiato anche le performance del Nasdaq. Che quindi significa che le small cap, in qualche modo le aziende, quelle un pochino più piccole, hanno ripreso a camminare. Adesso staremo un po' a vedere che cosa faranno oggi questi indici. Europa, Europa, quindi dicevamo che oggi sarà in attesa della BCE. E' Europa che parte abbastanza bene. Futsimib più 0,50%, DAX più 0,52%, UK meno 0,33%, va sempre un pochino in contro tendenza. Francia più 0,79%, chiude abbastanza contrastata l'Asia, la Cina, quindi CSI 300 meno 0,19%, CSI 50 meno 0,73%, Lanseng di Hong Kong praticamente è piatto, il Giappone è chiuso più 0,79%. L'Eurostox segna 0,22%, il VIX siamo a 17,3, meno 1,37%. Sul VIX c'è un grafico interessante che magari vi faccio vedere dopo se riesco, dove c'è una correlazione tra la bassa volatilità e la crescita dell'SP500. Se prendiamo un attimino l'SP500, eccolo qua, lo supportiamo sul giornaliero, praticamente c'è un grafico che dice che ogni qualvolta la volatilità si abbassa a certi livelli, quindi si arriva ai minimi, un po' come in questo momento, l'SP500 storna. E questo è accaduto più volte nel corso degli ultimi anni. Ogni volta che la volatilità si è alzata, cioè nel senso si è abbassata, scusate, ha raggiunto valori minimi molto, molto, molto bassi, poi l'SP500 è tornato indietro, rimandando il VIX piuttosto in alto. Quindi bisognerà fare un attimino attenzione anche qui, perché in questo momento siamo su livelli di volatilità abbastanza bassi. Quindi, lo vediamo qua, 1,31, 17,3 e quindi tutto questo ovviamente potrebbe darci un'indicazione di prossime ipotetiche. Allora, vediamo un po', prendiamolo da qua. Eccolo qua. Vediamo se riusciamo a leggerlo in maniera, mettendolo a confronto in maniera un pochino più pulita. Togliamo tutte queste cose qua, ok. Allora, ecco qua, vediamo così. Ecco, vedete, siamo su livelli, insomma, di volatilità. Vedete come sta scendendo il VIX, sta scendendo in maniera abbastanza importante. E quando scende troppo, in genere comincia a rialzarsi, poi dopo c'è una fase di riapertura e poi chiusura dell'SP500. Quindi bisogna fare attenzione un pochino a questi picchi di bassa volatilità. Quindi vedete che qui c'è un picco di bassa volatilità, un picco di rialzo. Adesso sembra si stia riabbassando, potrebbe dare di nuovo un picco verso l'alto e riportare un pochino a scendere l'SP500. Quindi bisogna fare attenzione anche a queste cose qua. Però per il momento restiamo in attesa. Oggi tra l'altro dati macro e archiarione degli Stati Uniti abbastanza importanti perché alle 2.30 ci saranno le richieste iniziali dei sussidi di disoccupazione. Poi ci sono le 14.30 c'è la conferenza stampa della BC, l'abbiamo già detto. Poi ci sono le 16.00 le vendite di abitazioni esistenti sempre per gli Stati Uniti e sempre alle 16.00 i dati sull'immagazzinamento del gas naturale su cui stiamo seguendo day by day a contanto di previsioni meteo. Quindi oggi giornata molto interessante. Giornata interessante anche per quanto riguarda la parte di rilascio degli utili oggi, di earnings, perché questa sera tocca a Intel e prima di apertura dei mercati tocca a TNT. Questo già ci dà una sensazione di come potrebbe andare il mercato nel pomeriggio. Poi ci dovrebbe essere anche la stessa SAP addirittura. Poi abbiamo la Nestle, Volvo, oggi dovrebbe rilasciare anche i suoi dati. Poi abbiamo American Airlines oggi, Southwest Airlines, quindi anche qui ci sarà da vedere un po' come reagirà il settore del Dow Jones Transportation a questi dati. Poi ci dovrebbe esserci addirittura, vedo, Montclair. Questa sera Montclair è l'azienda italiana del lusso, quindi andremo a vedere anche qui come si comporterà la nostra azienda, che sta facendo davvero delle buone performance nelle ultime settimane. Il lusso sta crescendo molto in queste settimane, proprio con l'ipotesi di riapertura, di ritorno a una pseudonormalità. Il lusso è la prima cosa che riparte perché si stima che nel 2020 i grandi risparmiatori abbiano messo in tasca qualcosa tipo il 7% del PIL mondiale, pronto ad essere speso in qualche modo e quindi ovviamente chi spende e chi può spendere sono le persone che hanno soldi. Quindi è chiaro che il settore del lusso potrebbe essere uno dei primi settori a beneficiare delle riaperture. Se pensate soltanto ai viaggi e non solo. E poi, insomma, abbiamo tutta una serie di altre aziende che stanno per rilasciare i loro dati. Però, detto questo, torniamo a vedere un attimino che cosa sta succedendo. Quindi gli indici dobbiamo fare comunque attenzione. Andiamo a vedere il Treasury perché il bond a 10 anni degli Stati Uniti è tornato a toccare la media a 50 periodi. Come vedete siamo a 1,55 e quindi si continua ad abbassare abbastanza. Questo lascia i mercati abbastanza tranquilli. Andiamo a vedere un po' sul Forex cosa sta succedendo. Continua la debolezza del dollaro, è sceso a 91,17. Vedete che discesa che ha fatto ormai dai primi di aprile e continua a scendere. E continua quindi in qualche modo anche a rafforzarsi l'euro-dollaro che comunque trova adesso un momento di rilassamento a 1,20. Oggi, molto probabilmente, si muoverà solo dopo la conferenza stampa della BCE. Poi, allora, che altro possiamo dire? Andiamo a vedere un attimino quindi cosa sta succedendo sul gas. Perché abbiamo detto oggi pomeriggio ci saranno i dati sulle scorte che sicuramente daranno un movimento deciso al gas. Gas che in questo momento sta retrocedendo, meno 0,72%. Vedete che finalmente, dopo due settimane di rialzi abbastanza complicati, comincia un pochino a tornare indietro. Qui abbiamo toccato la famosa linea discendente che abbiamo tracciato proprio nei scorsi giorni. Vedete, ci è andato a toccare perfettamente. È arrivato a 2,82-2,81 e sta tornando indietro. Occhio però che la situazione del meteo, soprattutto per quanto riguarda gli Stati Uniti, è ancora abbastanza complicata. Il fronte di aria fredda non si muove per il momento dalla parte centrale e nord degli Stati Uniti investendo anche buona parte delle regioni del sud, tra cui il Texas. Questo comporta ancora temperature piuttosto rigide almeno fino al 27 aprile. Quindi bisognerà fare ancora molta molta attenzione. Oggi quindi i dati sulle scorte ci diranno anche un pochino che direzione potrebbe prendere il prezzo nei prossimi giorni. Detto questo, andiamo a vedere un attimino qualche altra materia prima, perché il petrolio, visto che, come avete fatto prima, una domanda, proprio è arrivata sul gruppo Telegram, sul petrolio, il petrolio è un pochino in discesa, è un pochino in discesa, torniamo a mettere qua le nostre medie mobili, è un pochino in discesa, perché le notizie sulle scorte ovviamente sono ribassiste, perché le scorte sono piuttosto alte, e poi c'è anche una certa distensione tra gli Stati Uniti e l'Iran, che i collochi che stanno andando avanti, diciamo che sono andati avanti proprio a Vienna, sul nucleare, diciamo, danno un certo rilassamento, quindi meno tensione geopolitica, e quindi possibilità di avere più petrolio a disposizione, che non c'è un blocco, potrebbe venire meno il blocco del petrolio iraniano, per quanto riguarda gli Stati Uniti almeno. Quindi capite bene che tutta una situazione geopolitica abbastanza complicata, per cui il petrolio va tradato con molta molta attenzione. Poi, altre materie prime, andiamo a parlare di Palladio che ieri ha toccato il suo massimo storico a 2,900, eccolo qua, doppio massimo, realizzato proprio ieri, ne avevamo già parlato nei giorni scorsi, c'era la possibilità qua di giocarsi un pezzettino di short, poi ieri ha fatto un più 4,5%, il short che c'era stato proprio la giornata precedente, poi ieri ha fatto un più 4%, e stamattina sta un pochino ritracciando da questo massimo. Adesso, qui amo, ho già fatto un'ipotesi, vi ricordate, avevamo detto che sul doppio massimo era lecito tendersi a un ritracciamento, perché insomma 2,9 è davvero un prezzo enorme per il Palladio, e quindi potrebbe esserci un'ipotetica area di ritracciamento e potrebbe stare intorno ai 2,6, 2,5, ma rimanga, deve rimanere ipotetica, perché il Palladio è una materia prima estremamente volatile, su cui bisogna fare molta molta attenzione, molta attenzione, perché il rischio di farsi male è altissimo. Scende un pochino l'argento, per esempio, anche l'argento ieri era salito a molto, siamo ancora intorno ai 26 dollari, qui vi ricordate l'hype che c'era stato, che aveva portato l'argento a 30 dollari sulle voci che il gruppo di Wall Street Bets su Reddit lo stava spingendo, in realtà era un fake, infatti molti c'erano cadascati, approfittando di questa notizia fake, io avevo aperto diversi short, proprio qua a 30 dollari, perché poi mi sono andato a prendere i profitti proprio su questa candela rossa successiva, perché bisogna sempre fare attenzione a queste cose, non bisogna mai andare indietro al sentito dire, o alla paura di non essere entrati nel momento giusto, e quindi bisogna sbrigarsi a entrare, non vi fate mai prendere da questo panico, perché rischiate solo di buttare via i vostri soldi, quindi non lasciate stare i santoni, quelli che vi promettono facili guadagni, i facili guadagni non esistono, vedo tante pubblicità su YouTube di gente che pubblicizza roba di natura finanziaria, vabbè, addirittura aberrante, e poi lasciamo stare quelli che promettono mari e monti, vabbè, pensate con le vostre teste, insomma, questo è il mio consiglio, pensate sempre con la vostra di testa, ok, poi allora, dunque, qui torniamo a vedere un attimino cosa sta succedendo invece sul rame, poi parleremo anche di oro, rame che continua in qualche modo la sua ascesa, vi avevo detto, il rame, molto probabilmente, farà un 2021 ancora di, risalita e quindi ci sarà da fare molta molta attenzione sul rame, sul rame, avevo detto che se non volete andare direttamente sulla materia prima, potrebbe essere un'opportunità, un'opportunità oppure potrebbe essere una soluzione, puntare sul Southern Corporate Corporation, che è l'azienda che si occupa di estrazione, l'azienda che ha l'85-90% del suo business nell'estrazione e lavorazione del rame, soprattutto nell'estrazione del rame, quindi vedete che se guardate il grafico di Southern Corporate Corporation, è praticamente speculare a quello del rame stesso, quindi potete fare, diciamo, volendo un tentativo di investimento su questa azienda, ma occhio, veramente anche qui, vedete com'è molto molto volatile, quindi dovete fare molta attenzione, ripeto, non sono consigli di investimento, vi sto dando soltanto alcune notizie, nozioni che possono esservi in qualche modo utili, per poi riflettere un po' su come investire i vostri soldi, quindi, oro, allora, ah, prima di oro, perché poi ne abbiamo parlato ieri, abbiamo parlato quindi di un po' di cose, andiamo a parlare di wet, quindi andiamo a parlare di grano, ovviamente grano, che vedete che continua a salire sul grano, abbiamo fatto un bellissimo, un paio di bellissimi video, proprio nei giorni scorsi, uno ieri, uno l'altro ieri, vi ho spiegato un po' il grano, come, perché sta salendo in questo momento, e perché bisogna fare attenzione, soprattutto a questa quota qua, perché la stagione della trebbiatura del grano, quindi frumento, cereali e quant'altro, negli Stati Uniti inizia a maggio, e finisce in genere verso ottobre, fine ottobre, dura un sacco di tempo, perché si parte dal sud, dagli stadi del sud, quali il Texas, e si fa a salire fino al nord Dakota, quindi, bisogna fare attenzione, perché queste ondate di freddo, non fanno bene alla raccolta del grano, soprattutto non fanno bene alle coltivazioni, quindi, ci sta che, tanto il grano, quanto la soglia stessa, e guardate qua, anche il mais, vedete, stanno assolutamente prendendo l'ascensore, quindi bisogna fare molta molta attenzione, a queste materie prime, poi, che altro, anche il cotone, si sta un pochino riprendendo, qui siamo però su situazioni abbastanza diverse, per il cotone, e, parliamo invece di, velocemente dell'oro, oro che, stamattina, oggi retrocede un pochino, dove è toccato i massimi a 1,797, 7,96, oggi un pochino in ribasso, siamo a meno 0,33%, 1,787, vedete qua, che c'è, questo supporto a 1,800, a 1,800, ormai, da cui ci siamo allontanati, proprio, a fine febbraio, che sta per essere di nuovo raggiunto, e quindi potrebbe, il prezzo dell'oro, sentire di nuovo, questo, livello di prezzo, stavolta non come supporto, ma come resistenza, come vi ho spiegato più volte, i supporti, una volta che vengono rotti, si trasformano in resistenza, quindi, stavolta, il prezzo dell'oro, sentirà sicuramente, 1,800, come una resistenza, c'è da scommetterci, che tornerà un pochino indietro, prima di tentare, di nuovo, di rompere, questa resistenza, a 1,8, poi, due parole veloci, bitcoin, bitcoin 54, e 380, oggi era sceso, fino a 52,700, allora, ci sono, tutta una serie, di notizie, su bitcoin, però, prima di parlare, di notizie di bitcoin, a vedere, binance, 5,58, è sceso, un pochino, dai 600, dal massimo, di 600, poi, ad, più 0,54, poi, abbiamo, ethereum, che regge, regge benissimo, più 5,98, si riporta di nuovo, intorno ai 2,500, dollari, quindi, siamo vicini, al massimo, storico, di 2,540, ripple, 1,30, tezos, 5,30, poi, abbiamo, litecoin, 2,78, pnetwork, 1,68, poi, bitorrent, 0,0, non so cosa, tutta roba, doge, doge, scende, scende, doge, perché, perché, non può mica salire, all'infinito, e adesso, torno su livelli, un pochino più, consoni, anche se siamo ancora, molto, molto alti, dicevamo, di bitcoin, bitcoin, allora, tante, tante cose, bisogna fare attenzione, su bitcoin, perché, innanzitutto, ci sono un paio, di notizie, che mettono, un po', in allerta, i, diciamo, gli investitori, una, è stata un'intervista, a Curtis Spencer, di Electric Capital, che dice che, secondo lui, se i governi si dovessero mettere d'accordo, per ne bloccare il mining di bitcoin, già se lo facesse soltanto gli Stati Uniti, e lo facesse, insieme agli Stati Uniti, anche lo stesso Kazakistan, l'80-90% dell'ash rate di bitcoin, crollerebbe, morirebbe, e quindi, questo manderebbe in crisi, ovviamente, la criptovaluta, ovviamente, questa è un'ipotesi, no? Perché è uscita fuori questa ipotesi? Perché, con il problema che c'è stato la settimana scorsa, in Cina, nella provincia dello, Xi Yang, adesso non mi ricordo come si pronuncia, sto cercando un pochino, lo Xi Yang, cosa è successo? È successo che l'ash rate di bitcoin ha subito un contraccolpo, quindi, praticamente, diciamo che, da 172 milioni, è crollato a 154 milioni, proprio perché c'è stato questa specie di blackout, nella provincia, dove c'era stato un incidente, in una miniera di carbone, che aveva costretto le autorità cinesi, a bloccare tutte le attività di mining, delle miniere di carbone, di quella provincia, e non solo, aveva imposto tutta una serie di controlli, e verifiche, a tutti i data center della provincia stessa, ci sono diversi data center in quella provincia, che ospitano server di mining, ovviamente in cloud e non solo, e quindi questo ha fatto sì, che il fermo di queste attività, portasse a una diminuzione degli hash rate bitcoin, con una diminuzione del prezzo stesso, intorno al 4-5%, nulla di che, però, questo ha fatto scatenare un'ipotesi, che se gli Stati Uniti e il Kazak, che sono i più grandi miners a livello mondiale, decidessero di bloccare in questo modo i miners stessi, l'80-90% della hash rate, crollerebbe questo, potrebbe essere quindi un'ipotesi, però non è solo questo in realtà, JP Morgan con i suoi lungimiranti analisti, ogni tanto JP Morgan, tira fuori anche notizie interessanti, ha detto che invece il prezzo di bitcoin potrebbe soffrire del deflusso di, in qualche modo, di denaro, sì, giustamente, cioè non è una novità, chiaro che se uno toglie liquidità, i prezzi scendono, ma in realtà dice che ci sono dei segnali, per cui alcuni fondi, in maniera abbastanza fissa, quindi da metà gennaio, poi a fine dello scorso novembre, poi a metà febbraio, ovviamente tolgono delle liquidità, perché scadono, scadono dei future, scadono dei future su bitcoin, e questo ovviamente fa sì che bitcoin, in qualche modo, abbia un calo del prezzo, e quindi per quello motivo, dopo aver toccato i 65k, è sceso e non riesce di nuovo a riprendere spinta. Adesso ci sono tutta una serie di ipotesi molto interessanti, però restano comunque ipotesi. Staremo a vedere ovviamente cosa succederà a bitcoin in questi giorni, io aspetto sempre il weekend per vedere i movimenti più interessanti, però da un punto di vista puramente tecnico, diciamo che abbiamo questa situazione qua su bitcoin, abbiamo in questo momento una concentrazione di volumi abbastanza forti, qui intorno ai 56k, su questi volumi, sono entrati probabilmente sicuramente dei grossi investitori, e poi qualcuno qui ovviamente ha venduto, ha venduto in maniera anche abbastanza pesante, con questa discesa qua, perché è chiaro che è andata a prendersi dei bei profitti. Adesso c'è una concentrazione sempre di volumi qua, quindi c'è uno scambio sicuramente di posizioni, e in questo momento diciamo che i venditori sono in controllo rispetto a chi sta comprando, il prossimo supporto è qui proprio sui 50k, quello più forte ovviamente è qua sui 47k, ma dubito che ci arriveremo a 47k, staremo a vedere. Bene, per il momento è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto come sempre, e come sempre lasciate i vostri commenti, i vostri like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina, campanellina per rimanere sempre aggiornati, e ci vediamo nei prossimi ore, o per chi mi segue poi su canale Telegram, o agli altri social, oppure domani per un nuovo video, se non ci sono novità particolari. Quindi stay tuned, the finger crossed, ciao a tutti.